Involgere su questo, un secondo, tra un minuto torno da lei, su questo, perché i questi che citava Mezzetti erano evidentemente Ettore Saletti. Mezzetti sbaglia indirizzo se si rivolge a me come strumentalizzatore di questa situazione. Io non faccio il consigliere comunale, devo dire tenuto conto della dimensione anche qualitativa dei consiglieri comunali, sono contento anche se la democrazia mi ha bocciato, ma non mi preoccupo di questo, ho un grande passato alle spalle, quindi non ho bisogno di stare a sentire i giudizi del giovane Mezzetti, quindi respingo innanzitutto la tua considerazione che io sia qui per strumentalizzare o che strumentalizzi la posizione. Quelli sono consiglieri comunali che hanno il coraggio di firmare tutti i giorni interpellanze denunciando queste sì legittimità palesi da parte di questa maggioranza, in particolare dell'assessorato alle politiche sociali, per quanto si riferisce per esempio agli affidamenti delle gare, a Riach, ci torneremo, mi fate finire, ho sentito la reprimenda del giovane Mezzetti, l'uomo della sinistra che non manda a casa nessuno, che non manda a casa nessuno e che poi... Allora, su questo piano, caro Mezzetti, su questo piano sfondi una porta aperta, perché certamente io non ti dirò che devi mandare a casa i lavoratori, io però ti dico che in questo furore di trasformare l'assessorato alle politiche sociali in un assessorato della macelleria sociale, non puoi guardare solo alle borse lavoro, perché io per esempio ti potrei rigirare il fatto e dire con quali criteri avete fatto in modo che la Nemo ha sommesso alcune persone invece di altre, utilizzando illegittimamente lo strumento del volontariato, perché al centro giovanile, in forma giovane, avete selezionato alcune persone e altre invece no? Non apriamo questa spirale perché non ti porterebbe lontano, caro Mezzetti, non ti porterebbe lontano. Come sono state selezionate le 60 borse lavoro? Fermiamoci alla valutazione delle borse lavoro.